saluto in camera hai ripreso tutto ecco questo momento in cui io ti guardo in faccia e capisco che tu stai capendo mi fa godere è questo che fate dei video mentre c'è gente morta sono film horror dov'è Chiara? che le avete fatto? niente spoiler cosa? io muoio in un finto film di uno sfigato con dei cattivi che si chiamano osso ma strosso carcagnosso sì sì esatto carcagnosso è uno dei padri fondatori della mafia e io non sono uno sfigato sono un genio se fossimo in America ci sarebbe già il sequel tu non sei un genio sei un mafioso chi meglio della mafia per fare film horror? questo il tuo film fa schifo è una scopiazzatura come tutti gli altri tu critichi eh quelli come te stanno sempre a criticare poi andate al cinema a vedere solo commedie del cazzo ai film di youtuber avete paura di avere paura per un aiuto che schifo però se giri canale in tv lo fai la sera lo so c'è solo morte perché la madre che soffoca il figlio mentre dorme ti piace il marito che pugnala la moglie ti piace e la coinquilina che fa più zitti lo studente essa ti piace vende più della cocaina questi sono i contenuti originali più richiesti è il futuro non in lì no